che la fauna selvatica rappresenti per l'agricoltura una problematica importante ormai dati alla mano e cronaca lo confermano principalmente gli ungulati come il cinghiali hanno sempre rappresentato il problema più evidente e che ha anche fatto più notizia come volpi e faine e lupi che fanno man bassa di animali da bassa corte e con gli istrici e le nutrie che scavano trincee lunghe centinaia di metri ma non è da sottoalutare però un'altra faccia della stessa medaglia che gli agricoltori conoscono benissimo ma meno la gente comune ovvero i danni derivanti dai volatili. Si parlava di piccioni, si parla di storni che di fatto come specie protetta non si può cacciare il problema è la gestione della fauna selvatica che purtroppo non viene affrontata o viene affrontata in maniera troppo leggera e ne paghiamo le conseguenze sempre noi mondo agricolo non vogliamo azzerare la fauna selvatica sul territorio anzi la gestione della fauna selvatica va fatta anche per i cittadini che girano con le macchine perché si rischiano incidenti stradali quindi i problemi sono tanti. Durante la semina si posano sui campi come se fossero su di una tavola imbandita e banchettano fino a portare via quasi tutto il lavoro del fattore. Un danno per migliaia e migliaia di euro oltre che tutto da rifare per il contadino a complicare poi ulteriormente la vita ci si mettono anche le pastoie burocratiche per avere i rimborsi della passata stagione. Quali sono le cose che può mettere in campo l'agricoltore per tutelarsi un pochettino da questi problemati? Sì allora sui volatili è difficilissimo perché proviamo con cannoni dissuasori che fanno quindi un rumore per allontanare gli animali ma io personalmente cioè anche gli storni stessi dopo due giorni si abitano al rumore e poi non si alzano più manco dai vigneti d'olio oliveti. Ci sono recinzioni che adesso anche con un bando regionale si possono fare per il contenimento del lupo però è chiaro che recintare 30 ettari di pascolo sono situazioni abbastanza difficili e paradossali. Va ripresa in mano la gestione una sorta di abbattimento sulle specie che sono censite che hanno dei numeri eccessivi basterebbe rispettare la legge però in Italia molto spesso non funziona così.